però le belle arti già hanno fatto il sovrannodo ha detto che loro recuperano tutto questa è la famosa scaletta che andava sul pulpito qua sotto vedi c'è un bozzo e una cisterna e prima l'acqua stava qua non stava fuori e qui prendevano l'acqua per vivere per cucinare per fare tutto e per da beve alla gente